Appena di ritorno dall'anteprima napoletana di Il mio nome è Thomas, l'ultimo lavoro di Terence Hill con Veronica Bitto. Questo film è stato progettato circa dieci anni fa, quando Bud era ancora in vita. Non so se fosse stato ancora in vita Bud, uno se avrebbe avuto un piccolo cameo e due se si fosse fatta l'anteprima qua, come poi vedrete nell'intervista dopo. Il film parla di un motociclista, Thomas, che dà una mano in un convento, che prende e parte per leggersi un libro nel deserto. Per problemi di budget e per sogno di Thomas nel film, che poi Thomas non è il suo vero nome e come viene battezzato per questa impresa, questi si reca in Almeria, dove appunto Terence Hill e Bud Spencer girano i loro famosi western. E per la strada incontra Lucia, interpretata da Veronica Bitto. Molto brava, molto bella. Qui vediamo anche la famosa scena delle padellate, quella che è stata mostrata più volte in televisione. Il film scorre lento, il problema di questo film non è che scorra lento, è che dove c'è nei western, quel silenzio che riempie, qui il film scorre lento perché ha una trama appunto che pian piano si avvicina, non ci sono grossi colpi di scena, scopriamo che in realtà Lucia, interpretata dall'abitto, è malata, però appunto Terence affronta il tutto molto con leggerezza, un uomo che ha vissuto, ha avuto le proprie esperienze, chissà cosa ha combinato nella sua vita, non ci viene detto nulla del suo passato, possiamo soltanto immaginare per quale motivo sia molto legato a quell'atmosfera. In teoria potrebbe essere un ex attore di film western, in teoria, o magari una persona che è un servo devoto di Dio, un qualcuno che si è convertito. Della abitto invece conosciamo molto, scopriamo della zia scrittrice, scopriamo della malattia, ma anche qui è un detto non detto. Il problema secondo me sta forse, ve la racconto, in una sequenza ad inizio film. Terence Hill prende e chiede alla abitto se vuole proseguire la corsa con lui. Lei si incazza, si infuria e dice di no. Terence a questo punto se ne va via e nella metafora del cavallo, probabilmente lui vede appunto il cavallo, il fedele compagno, oltre a questa cosa qua, e torna dall'abitto. Il problema è che l'abitto, giochiricchiando con dei fiammiferi, per sbaglio si dà fuoco alla stanza. Ora che succede? Che da una parte è sorprendente, no? Come Terence abbia impiegato così tanto tempo per andare quasi fino al deserto, poi prenda e in un attimo ritorni dalla ragazza, quasi pensando che lei fosse in pericolo. Ma ok, il problema secondo me è su un taglio di regia, mi spiego meglio. Quando Terence se ne va, l'abitto, c'è un movimento di macchina verso l'abitto, verso Lucia, e questo movimento di macchina è accompagnato da una musica che, oh mio Dio, è una fiction. Cioè, Terence in un certo senso ha giocato su sto fatto qua, perché appunto i monaci, quindi le atmosfere clericali come in Don Matteo, e il fatto che lui sia amante della natura come a un pasto dal cielo. Quindi entrambe le cose, lui ci ha giocato molto su sto fatto qua, però appunto su certi aspetti, secondo me, lui ha enfatizzato così tanto che appunto pare una fiction della Rai. E non è l'unico caso, però è quello più evidente, proprio il movimento di macchina, lo sguardo di lei così che si fa più grosso, e la musica proprio caricata, che tu dici, no, ya, per me è che non stai in guaiando. Infatti, secondo me è un film che poteva essere da 7 e che scende a 6. C'è una scazzottata, sì, anche Caruccia, non è lunghissima, penso se duri un minuto e mezzo, una cosa del genere, però è fatta effettivamente bene, ricordiamo che c'ha quasi 80 anni di Terence Hill. Il film, il finale del film, ti vengono un paio di domande, tipo, ma perché la polizia non abbia fatto qualche accertamento su di lui, perché cose che però non posso spalerare, però diciamo che, ok, riflettendoci sul finale del film mi viene in mente un'altra cosa, quando loro iniziano a leggere il passo del libro che Terence si è portato, la Bitto incomincia a pensare alle vere scene, e mi viene in mente, per esempio il film, quando fanno la fiction su Papa Ratzinger, mi viene in mente questo fatto qua, quando lei immagina come veniva sgozzata la ragazza Tuareg, e quindi mi immagino Pietro Sermonti con la stessa forza attoriale, con la stessa tenacia attoriale di fare il giovane Ratzinger che saltellava e sultava quando lui veniva dichiarato vescovo, me lo immagino in questa scena perché è stata veramente una cringata, anche questa, perché appunto sono delle cose che se tu fai fiction ti rimangono, e purtroppo sono i linguaggi della fiction che tra l'altro la ragazza sta cercando di superare. Detto questo, comunque il film è caruccio, ci sono un paio di scene, non dico memorabili, però dai, a scazzottata non è andata male, c'ha 80 anni Terence, le vi ricordo, l'ultima volta che l'aveva fatta era tipo in botte di Natale, poi l'ha fatta un paio di volte in Don Matteo e un paio di volte a un passo al cielo. Io spero di non avervi annoiato, allora se vi devo consigliare questo film ve l'ho detto, è un 6, un 6 politico, un 6 perché comunque è Terence, un 6 perché comunque me lo sono visto, qui vedrete tipo il video dove io spiego che, non me lo sono visto con Terence, dove lui spiega l'anteprima, queste cose qua, a posto della mia cozzetta, io spero di non avervi annoiato troppo, e ricordatevi che i maestri dei western purtroppo non ce ne sono più, io ho avuto la fortuna e il piacere di poterlo vedere, ma non potergli stringere la mano, caspitevi una baratterella a setta di mano con Piero Angela, quella con Terence Hill. Io spero di non avervi annoiato troppo, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima video recensione. Ciao a tutti!